Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video in cui faccio da editor ai vostri fumetti. Per la precisione oggi farò da editor al fumetto chiamato Error 404 di Lorenzo Gerbasoni, Stefano Basalarato, Luigi Chirioni. Allora ragazzi, grazie anzitutto per avermi dato la possibilità di correggervi dal vivo, quindi dando la possibilità anche a chi ci sta guardando di poter magari apprendere qualche informazione da quello che state creando. Come vedete da questo foglio io sono andato a scrivermi un po' di cose insomma che vi dovrò dire. Quindi direi che possiamo cominciare da subito. Devo dire che questa copertina secondo me è fatta molto bene, attira l'attenzione del lettore e quindi complimenti. Vediamo fin da subito però un aspetto che poi tornerà su tutte le tavole di questo fumetto, ossia il fatto che questo fumetto sia stato fatto a sei mani, ovvero tutti e tre i creatori del fumetto lo hanno anche disegnato andando a disegnare nello specifico il proprio personaggio. E questa cosa si vede abbastanza bene insomma già dalla copertina perché ci sono tre stili che sono abbastanza diversi tra loro. Direi di cominciare con le prime due tavole, andiamo a leggere la storia e poi andiamo a fare qualche riflessione sopra. Quindi vediamo nella prima tavola questi protagonisti che stanno nella vita reale e a un certo punto subentra qualcuno che gli dice sveglia. Loro sono un po' incavolati e questo qualcuno gli dice al lavoro fannulloni. E poi dici Mansi, cosa dobbiamo fare oggi? E Mansi, che è questo essere virtuale credo, dice Solita prassi, siete in un server infetto con tre virus da prendere a calcini nel culo. Finite il lavoro e potete tornare a cazzeggiare. Ho fatto comparire i vostri gadget, sapete già come usarli. Ed eccoli qua sotto i gadget che hanno a disposizione questi personaggi. Vi dico da subito che la storia è molto interessante. Praticamente narra delle avventure di questi antivirus che devono appunto andare a sconfiggere i virus che si trovano in server, pc e quant'altro. Quindi forse, forse, ma questo non è dato saperlo ancora nel primo capitolo, loro non sono dei personaggi reali. E quindi quello che troviamo qui in questa prima tavola è semplicemente una trasposizione virtuale del loro momento di relax. Ditemi in un commento qui sotto se è così che stanno le cose, così da dare anche al pubblico e a me la possibilità di capire meglio come è strutturata la storia. Ok, cominciamo col dire alcune cose. Allora, dal mio punto di vista l'ingresso di Mansi, questa creatura virtuale che dà comandi agli antivirus, è un po' debole. Nel senso, non si capisce molto bene. Siccome Mansi mi sembra di aver capito che è un personaggio importante all'interno della storia, è colui che tiene le redini appunto di questi antivirus, secondo me dovrebbe essere presentato meglio, magari con una vignetta tutta sua, in maniera tale che il lettore possa focalizzare bene chi è Mansi. Perché effettivamente in questa vignetta qua, Mansi mi sembra più un ballon, ok? Sembra più una nuvoletta e quindi si fa un po' fatica a capire. Anche in quest'altra, come potete notare, insomma, Mansi è un po' sullo sfondo, non si capisce bene. E quindi questa cosa andrebbe, secondo me, valorizzata. Molto carino invece il fatto che Mansi sia sboccato, secondo me è carino. Poi vedremo nella, diciamo, anche andando avanti nella storia, un po' tutto il fumetto è un pochino fuori dalle righe. E questa cosa, secondo me, è carina e al passo con i tempi. In questa vignetta qua, Mansi, secondo me, è troppo abbozzato. È disegnato un po' troppo bambinesco. Bisognerebbe lavorarci un pochino di più. Quindi, se vi posso dare un consiglio, tra questa pagina e quest'altra, magari ne potreste mettere un'altra, in cui andate a presentare bene Mansi e magari, non so, siccome siete in tre, avete tre creatività diverse, potreste andare a disegnarlo tutti e tre e poi magari scegliere quello che secondo voi è il migliore. Insomma, in maniera democratica potrebbe essere un modo per poter magari andare a strutturare meglio questo character design. Tavole 6 e 7. Qui c'è la presentazione dei tre protagonisti. È fatta bene dal mio punto di vista. È carina, è simpatica e ci sta alla grande. Andiamo a leggere prima queste due tavole e poi dopo facciamo un paio di riflessioni. Quindi qui si presenta Mario Mosconi, poi Beppe Brescia e King. Dopodiché Mansi dice, mi raccomando squadra speciale Asani, rendetemi fiera di voi. Attenzione alla punteggiatura, perché qui è, mi raccomando, virgola, squadra speciale Asani, due punti, rendetemi fiera di voi. Ok? Quindi abbiamo capito che Mansi in realtà è una donna, comunque sia femmina. Successivamente parla Beppe Brescia e dice, il primo virus è un file di grande dimensione che appesantisce l'SSD. Richiamo la Sunny Wing e partiamo. E dopodiché arriva questa astronave, appunto la Sunny Wing, e i personaggi partono. A livello temporale le vignette sono fatte bene, cioè si capisce quello che sta accadendo. E questa è una grande cosa, soprattutto per chi vuole appunto tentare di essere pubblicato, perché altrimenti esiste purtroppo questo problema, cioè all'inizio si fa fatica a creare delle vignette che possano avere un arco temporale che si capisce. Invece il vostro, devo dire, che si capisce molto bene. Quello che non mi piace molto di queste due tavole sono sostanzialmente due cose. La prima, gli sfondi che abbiamo qua sono troppo smarmellati, hanno troppo quell'effetto sfumatura tipico dei disegni digitali. Secondo me è un po' sciapo questo tipo di sfondo. È molto più interessante invece questo sfondo qua, ok? Che ha appunto una texture che volendo potreste applicare direttamente sopra anche gli altri sfondi per poterlo rendere un pochino più vivace. Questo è un po' troppo grezzo, non mi fa impazzire. Aggiungo anche un'altra cosa. È vero che voi state creando questo fumetto a sei mani, appunto, e quindi ognuno si crea il suo personaggio. Qui lo vediamo molto bene, c'è una differenza di stile molto forte. Però il mio consiglio è di non fare la stessa cosa per gli sfondi. Cioè che possiate lavorare magari sui tre personaggi in modo separato, ma che tutto il resto possa avere una struttura che possa seguire una logica, così da rendere un po' tutto equilibrato. Perché altrimenti ci sarebbe troppo sbalzo tra una vignetta e l'altra e questa cosa non è il massimo. Un'altra cosa che non mi fa impazzire è la Sunny Wing. Secondo me è troppo basica. Andrebbe, secondo me, lavorata un pochino di più. C'è la possibilità, insomma, magari di trovarvi un po' di reference, di aggiungere qualche texture, di aggiungere qualche dettaglietto in più. Sul nome dei personaggi non ho nulla da dire, anche se Mario Mosconi e Beppe Brescia mi sembrano degli opinionisti di partite di calcio, eh. Ok, a me sinceramente non fanno molto impazzire, però resta nella sfera della creatività, della fantasia artistica e quindi alzo le mani e lasciamo così come stanno le cose. Andiamo avanti. Tavola 8 e 9. Qui vediamo la Sunny Wing che arriva a destinazione, loro scendono e trovano una situazione. E qualcuno dice, cos'è questa folla? Sono tutti i files convolti dall'anomalia che si sono radunati qui. Dobbiamo finire prima che vengano schiacciati. E poi, questa è l'anomalia, ok? Alla faccia dell'anomalia, dice King, qui lo leggiamo bene. E poi qualcuno che si trova sotto l'anomalia, un SSD, lo vedete anche in piccolino qui, insomma si riesce un po' a intravedere, dice, fate attenzione, questo non è un semplice file pesante. Dopodiché c'è un onomatopea e poi Beppe dice, in base ai miei calcoli, ahhh! E quindi qui, insomma, l'anomalia comincia a muoversi. King dice, questo è un lavoro per te Mario, tieni, usa la tua pillola, gli lancia la pillola, Mario dice, ci penso io. E successivamente succede qualche cosa, Mario diventa una sorta di Buddha virtuale, no? Anche qui la Sunny Wing bocciata, è disegnata in modo molto molto abbozzato, insomma ci dovete lavorare. Oh, qui viene detto cos'è questa folla, però questi puntini non danno il senso della folla, ok? Questa secondo me è proprio un tipo di divignetta che non funziona, che non fa capire bene cosa sta succedendo. Come potreste migliorarla? Allora, potreste ad esempio cambiare il punto di prospettiva. Vediamo un po' se posso darvi qualche consiglio al riguardo. Potete fare, qui la folla, ok? Poi qui va, no? Questi sono tutti i personaggi che rappresentano la folla. E in questo modo che va un pochino a sfumare. E qui disegnate il volto di quello che sta dicendo cos'è questa folla, così che si riesca a capire meglio. Qui continuate, andate sempre più a sfumare. Però almeno il lettore riesce a capire quello che sta accadendo, perché questi puntini invece non rappresentano la folla. E anche nella vignetta sotto, fatela un pochino meglio, eh? Riempite, qui dovete riempire tanto. In tutta questa zona qua si deve vedere, insomma, che c'è la folla. Questo personaggio che si trova qui sotto e che poi va valorizzato, perché poi nella vignetta successiva lo troviamo esattamente qui, e quindi dice anche qualche cosa, bisogna che lo facciate in qualche modo, lo facciate capire. Quindi qui potreste far scrivere una frase tipo aiuto, una cosa del genere, capito? In maniera tale che il lettore è portato a vedere che lì sta accadendo qualche cosa, ci butta l'occhio e poi dopo, appunto, la vignetta successiva è giustificata. Così poi funziona tutto meglio. Molto bene invece la presentazione dell'anomalia. Devo dire che funziona, questa vista, insomma, dall'alto è accattivante e ci sta. In quest'altra vignetta invece dovete andare a togliere questa striscia qua, ok? Perché qui i balloon sono separati. Qui parla King, qui parla Mario. Mentre quando si fanno questi allunghi sono dei modi per poter far capire al lettore che sta parlando sempre la stessa persona. Ora, non so per quale motivo la pillola di Mario c'è la King e gliela lancia. Effettivamente è spettacolare. Però, diciamo, ai fini logici ognuno dovrebbe avere, insomma, il suo elemento, ok? E viene un po' strano che, appunto, la pillola che dovrebbe essere di Mario c'è la King. Andiamo avanti. Tavola 10 e 11. Allora, qui Mario, che è diventato un Buddha, dice Preparati ad essere alleggerito dal mio raggio mosconiano. Dopodiché succede qualcosa, come vedete, crack. E una figura esce praticamente da questa anomalia e dice Oh, grazie, adesso sì che mi sento leggero. E Mario dice Mi ringrazierai dopo questo. Gli dà un cazzottone dopodiché gli prende la testa e gliela strappa di netto. Bacia i miei glutei marmorei. Mi piace com'è disegnato Mario quindi complimenti a chi lo sta disegnando perché questa irregolarità che troviamo insomma, questi allungamenti del personaggio sono molto interessanti. Ora, nella mia interpretazione dei fatti che è poi la stessa interpretazione che avrà il lettore perché il lettore non può parlare con voi che gli date le spiegazioni. Quindi, nella mia versione dei fatti qui Mario colpisce con questo raggio l'anomalia l'anomalia si spezza ne esce fuori un altro personaggio cattivo anch'esso perché Mario poi va praticamente a strappargli la testa. In base alla narrazione che voi avete fatto questo appunto che esce fuori non è un personaggio positivo visto che viene comunque distrutto. Se così fosse, allora secondo me andrebbe aggiunta una pagina per dare un po' più di enfasi proprio a lui. Ok? Perché qui noi me lo presentate proprio in lontananza tutto nero non si capisce neanche che è dopodiché in quest'altra vignetta già sta succedendo qualche cosa. Ogni volta che entra un nuovo personaggio deve essere presentato nel giusto modo perché altrimenti il lettore fa fatica a capire cosa sta succedendo. Ok? Quindi potreste aggiungere magari una pagina in mezzo una tavola in cui andate a presentare meglio questo personaggio in modo che si possa capire bene chi è perché si trova là perché stava all'interno dell'anomalia è un personaggio positivo? è un personaggio negativo? Insomma c'è bisogno di ampliare un po' il discorso con questo personaggio qui. Questa secondo me non funziona io non riesco a capire cosa sta accadendo qui leggo solo crack e va bene mi dà delle intuizioni però secondo me questa andrebbe rifatta un pochino meglio per far capire bene appunto cosa sta succedendo che appunto l'anomalia si sta strappando. Qui alleggerito lo metterei tra virgolette perché lo avete in qualche modo enfatizzato mettendo il grassetto in questo caso in questo caso secondo me ci stanno bene le virgolette. Questa onomatopea quella del boom secondo me va a impallare un po' troppo l'immagine quindi la sposterei un pochino leggermente più verso il basso. Ok per il resto non ho nulla da dire quindi direi che possiamo andare avanti con le altre due tavole. Ok quindi l'anomalia è stata debellata qui vediamo anche i caratteri dei tre antivirus quindi questa cosa secondo me è fatta davvero molto bene dopodiché c'è questo movimento quindi i personaggi rientrano dentro la Sunnywing let's go dall'idea appunto che King prende il posto del pilota e ripartono. Ok quindi qui nulla da dire andiamo avanti sto triangolando la posizione del prossimo obiettivo ci siamo quasi grande beppone non lo so non mi fa impazzire questo atteggiamento che adesso non so voi quanti anni avete grande beppone è un modo di dire un po' adolescenziale che però ripeto non mi sento io non vi dico niente ma sinceramente se fossi il vostro editore vi direi non ci non va bene grande beppone lo cambierei però andiamo avanti beccato sono riuscito a rintracciarlo rintracciarlo non lo fate in questo modo magari se dovete andare a capo rintracce e poi andate a capo ciarlo dopodiché Beppe dice sembra che abbiamo a che fare con uno spyware sta rubando tutte le informazioni e i file importanti danneggiando il sistema anche qui la punteggiatura attenzione sembra che abbiamo a che fare con uno spyware punto sta rubando tutte le informazioni e i file importanti virgola danneggiando il sistema ok? va bene qui comunque la storia si capisce abbastanza bene anzi molto bene quindi possiamo andare avanti tavole 14 e 15 continua a parlare Beppe che dice dobbiamo muoverci gli errori di sistema stanno corrompendo tutto Mario prepara la Sunny Mobile quindi vediamo un'inquadratura dal basso della Sunny Wing c'è il target va benissimo dopodiché appunto esce questa macchina che corrisponde appunto alla Sunny Mobile qui comincia l'azione pura si avvicina appunto la Sunny Mobile e qui appunto Beppe dice avvicinati di più Mario nel frattempo quello che è il virus comincia a sparare Mario ingrana la quinta diciamo e Beppe appunto comincia ad utilizzare il mitragliatore ancora una volta l'errore principale che vedo in queste tavole è la Sunny Wing anzitutto questa ve la boccerei perché è praticamente identica alla vignetta che si trova a pagina 7 e poi io sinceramente lettore non riesco a capire che questa sia uguale a questa mi sembrano due cose diverse quindi anche qui bisogna capire per esempio questi che cosa sono sono i reattori e perché qui sono fatti in questo modo e dietro invece non sono fatti nello stesso modo non si capisce quindi bisognerebbe andarci a lavorare un pochino di più nel caso in cui vogliate fare dei reattori magari potreste pensare anche di fare la scia di fumo insomma qualcosa del genere così che almeno fate capire anche la direzione il punto di vista di questa Sunny Wing stessa cosa per quanto riguarda la Sunny Mobile ancora una volta abbiamo un veicolo sinceramente un po' troppo grezzo troppo abbozzato quindi insomma ci dovreste lavorare un pochino di più direi che possiamo andare avanti con la prossima pagina tavola 16 e tavola 17 qui Beppe colpisce le ruote quindi l'auto va a sbattere Beppe esulta quindi qui vediamo appunto il virus che sta messo abbastanza male esce dice figlio di P dopodiché appunto abbiamo la mitragliatrice che lo fa praticamente a fettine anche qui a livello narrativo devo dire che va tutto piuttosto bene l'unica cosa fate attenzione perché qui il virus si trova sotto l'automobile non ha molto senso perché lui sicuramente sarà uscito si sarà buttato giù aprendo lo sportello quindi non può avere le gambe sotto ok quindi magari potreste pensare di modificare proprio questo punto qui molto bella invece questa vignetta in cui appunto si vede che ci troviamo in un luogo virtuale con queste case che prendono il volo e pezzi di terreno che si staccano come puzzle ok andiamo avanti tavola 18 e 19 qui il virus viene completamente debellato l'automobile scoppia ancora una volta abbiamo i tre personaggi che insomma guardano soddisfatti quello che sta accadendo dopodiché cosa succede qui la vignetta dice il server è in sovraccarico sta per esplodere dobbiamo andarcene lasciate fare a me dice Beppe dopodiché succede qualche cosa vediamo un'antenna qui non si capisce molto bene cosa sta accadendo scoppia tutto dopodiché vediamo appunto il diradarsi del fumo e Beppe che in qualche modo li ha protetti con questa bolla che dice Beppe chi è il prossimo bersaglio qui lo dice Mario la prima cosa che mi sento di dirvi in queste due tavole è allora se voi qui andate a creare un'esplosione che va a rendere tutto arancione rosso con questi colori molto caldi dovreste riportarli anche in quest'altra vignetta per dare modo al lettore di capire che si trovano proprio lì di fronte ok questa vignetta invece secondo me è un po' troppo fredda rispetto appunto alla prima con freddo chiaramente mi riferisco al colore sempre parlando di colore in quest'altra vignetta la mano di Beppe gliela farei dello stesso colore della pelle di Beppe perché io qui sinceramente all'inizio ho pensato che in realtà fosse la mano di Mario forse perché in precedenza l'avevate presentato con questi tipi di colori un po' violaceo un po' lilla e anche questa vignetta non mi porta a capire bene cosa sta accadendo in realtà qui si sta sgredolando tutto quanto però sinceramente una vignetta così molto stretta e piccola non ti fa capire molto bene quello che sta accadendo quindi anche qui non so se è il caso di aggiungere una pagina per far per dare un po' più di enfasi a quello che sta accadendo che è abbastanza tragico ok va bene possiamo proseguire andiamo a vedere le tavole 20 e 21 quindi due virus li hanno debellati resta l'ultimo virus e qui Beppe dice il prossimo virus è una DUR da city porn si chiama sex machine è molto carina la storia ed è anche molto contemporanea ci si possono fare un sacco di battute quindi continuate su questa strada perché secondo me può funzionare qui abbiamo King che impazzisce e dice dove dove fa vedere e poi abbiamo qui questa vignetta in cui si intravede insomma il virus e poi abbiamo la visuale da dietro del virus stesso che dice fatelo vedere anche a me qui viene presentato appunto il virus e King dice sposa mi si è innamorato subito perché sono comunque molto simili tra loro mentre lei lo lo sbatte per terra dopodichè dice come puoi anche solo pensare che sposerei un palle mosce come te voi preparatevi a morire qui la presentazione di sex machine vi è riuscita molto bene quindi complimenti va benissimo così secondo me quello che forse dovreste fare è dare un pochino più di enfasi a questi colori perché sono troppo simili e si fa insomma ci vorrebbe secondo me un contrasto per far capire bene al lettore insomma questa vignetta che si legge poco in quest'ultima vignetta in questo ballon il virus sta parlando a King quindi secondo me lei dovrebbe essere insomma dovrebbe avere lo sguardo rivolto verso King e questa seconda vignetta gliela farei dire magari che ne so fate una cosa del genere qui mettete il primo piano di sex machine ok e che dice appunto voi due punti preparatevi a morire anche perché questa è una frase forte di impatto e dovrebbe essere valorizzata in una vignetta a parte ci sta meglio Beppe sferra i suoi missiloni su sex machine che scompare dopo di che lui dice dove è andata e lei ritorna improvvisamente spezzandolo in due e gli dice sono qui Mario si si mette a urlare no Beppe ti vendicherò Beppone prende la sua pillola qui Mario ha la pillola quindi tornando al discorso di prima non si capisce perché prima gliela doveva lanciare King comunque va bene qui vediamo il sorriso beffardo di sex machine Beppe che dice what e è bellissima questa vignetta veramente molto molto carina con lei che si palesa proprio schizzata nel vero senso della parola quello che invece si riesce a capire poco è all'atto pratico cosa sta accadendo qui cioè Mario lancia questa pillola ma se noi andiamo avanti mi sembra di capire che la pillola gliela prende sex machine se così fosse qui andrebbe fatto capire in qualche modo non lo so facendo una cosa del genere quella pillola la fate qua che fa che fa così che ne so perché altrimenti non si capisce questa cosa quindi secondo me questa andrebbe un attimino rivista andando avanti vediamo che il virus ingoia la pillola di Mario e lui dice merda adesso cosa posso fare se la pillola farà effetto anche su di lei sono fottuto cazzo e vediamo che improvvisamente sex machine diventa un golem terribile molto bella cioè questo passaggio è davvero secondo me ben fatto e lei dice oh sì mi sento meglio che dopo una carina questa cosa che non mettete scopata ma che la fate in qualche modo bloccare questa questa parola cosa che magari che ne so non c'è qui quando dice cazzo no quindi sta a significare che in qualche modo che ne so il virus è un po' bloccato non lo so ci sono c'è qualcosa qualche limitazione del linguaggio però è carina questa cosa secondo me quello che però non è molto positivo è la morte di Mario perché noi qui vediamo questa onomatopea è molto bella però qui non si capisce bene cosa sta succedendo secondo me andrebbe gestita in modo un po' diverso ad esempio non so potreste pensare di fare il torso e magari una cosa del genere e qui la sua testa ok potrebbe essere secondo me potrebbe funzionare meglio e magari qui appunto continuate con queste linee cinetiche che fanno vedere che danno il senso del taglio magari le fate in questo modo se invece volete restare con questa logica qua sarebbe meglio fare le teste un po' più piccoline e magari l'ultima appunto fate vedere che si è staccata dal corpo e che se ne sta andando magari anche un po' più giù a questo punto si risveglia King vede quello che è accaduto e grida ragazzi vede che insomma gli antivirus sono stati debellati e Sex Machine dice ah ti sei svegliato giochiamo insieme dai hai ucciso i miei amici ma cosa più importante io non ho le palle mosce e improvvisamente qui vediamo King che sferra con un dito un attacco potentissimo e insomma dovrebbe aver ucciso debellato completamente Sex Machine appunto dopodiché dice mi mancherete ragazzi e qui ritorna improvvisamente Menzi che dice quando hai finito di frignare vai a recuperare le loro schede e rianimali col wikis dopodiché qui vediamo tutta una serie di azioni simpatiche che fa King che lo rendono insomma un po' il pazzo del gruppo ci sta è molto carina questa vignetta e ancora una volta Menzi dice adesso indossa questo durag e inserisci le schede qui e qui vediamo quello che accade ecco Beppe ma dov'è Mario non lo vedo quindi praticamente questi sono antivirus non sono persone reali quindi muoiono ma possono essere fatte rinascere se vengono messe appunto queste schede in questa struttura chiamata wikis molto carina ci sono dei rimandi a cose moderne quindi veramente questa storia funziona alla grande ci sono però alcune cose che io rivedrei la prima Sex Machine dal mio punto di vista non può uscire di scena in questo modo perché qui il lettore non riesce a capire se lei è disegnata così perché si sta dissolvendo o semplicemente perché si trova all'interno di questo raggio quindi che cosa potresti fare invece di fare questa vignetta o meglio potresti anche farla però ci starebbe anche meglio una vignetta che guarda le spalle di King e in lontananza si vede del fumo che si sta dissolvendo con lo stesso colore di Sex Machine così che il lettore capisce bene quello che è accaduto e anche l'ingresso di Menzi è troppo repentino non può esserci subito un primo piano quando entra un personaggio bisogna presentarlo qui King dice aspetta quello cos'è è un uccello è un aereo no è Mario Mosco Dragon e qui si vede praticamente l'evoluzione di Mario e qui invece vediamo Beppe che è vestito invece da Harry Potter e dice ehi perché io non sono diventato così potente dopo il Wikis e King dice perché sei un e ci sono di nuovo queste limitazioni che sono davvero simpatiche e Beppe dice questa è la mia forma ancestrale potenziata perduta nei secoli dei secoli amen carino dopodiché King dice torniamo a casa raga dai e Beppone vai Beppe apri il portale facci sognare Beppe fa qualcosa una sorta di magia con la bacchetta magica ma questa poi gli si affloscia e tutti dicono e adesso Menzi qui Beppe dice tengo i demoni in capa però tengo i demoni in capa non so veramente cosa significhi scrivetemelo in un commento qui sotto e Menzi ritorna dice immagino vi starete chiedendo perché non potete tornare a casa vero? beh la risposta è semplice dovete sconfiggere ancora un virus controlla sul tuo GPS King qui c'è appunto il GPS si sta avvicinando qualcosa è a 10 metri da voi a 5 metri a 2 metri io non vedo nessuno dice King e nella tavola successiva esce questa sorta di Godzilla gigantesco che fa un urlo ed è l'introduzione perfetta a un nuovo personaggio e anche la perfezione della conclusione di un capitolo che dà appunto questo patos che fa venire voglia di leggere il secondo capitolo e cosa succede quindi funziona alla grande torniamo un attimino indietro in questa vignetta King dice ecco Beppe ma dov'è Mario non lo vedo allora Beppe dove sta nel senso chi è Beppe è questo che sta scendendo però non si vede bene cioè il lettore non riesce a capire bene cosa sta succedendo anche perché subito dopo voi andate a presentare questa figura qua io sinceramente da lettore ho pensato che questo che scendeva qui potesse essere proprio questa figura qui ma da come leggo nelle vignette in realtà quello è Beppe inoltre avete presentato benissimo Mario e la sua trasformazione ma Beppe non l'avete presentato per niente qui lo vediamo per la prima volta rigenerato in questo primo piano non si non si vede molto bene non si dà enfasi neanche a questa battuta a questa gag che avete voluto fare del fatto appunto che lui sia rinato vestito da Harry Potter e quindi andrebbe andrebbe rivista un po' questa scena sequenziale perché non funziona molto bene ancora una volta dovreste togliere l'unione dei balloni perché qui sono detti in modo cioè sono due persone diverse che lo dicono e quindi non ha senso legarli in questa vignetta il focus è puntato su quello che sta facendo Beppe ok quindi non è il caso che mi andiate a tagliare proprio questo pezzo quindi dovreste tirare un po' tutto su il personaggio lo tirate un pochino su perché tutto questo spazio effettivamente non serve quindi dovreste ricentrare un pochino meglio la vignetta e qui si conclude la mia correzione quindi voglio fare un piccolo riepilogo delle cose che ho trovato e dei consigli che posso darvi per poter valorizzare ancora di più questo fumetto e avere più chance quando avrete la possibilità di mostrarlo a un editore trovo questa storia davvero molto interessante simpatica al passo con i tempi un po' nerd che ci sta in questo periodo visto che è tutto nerd quindi continuate su questa strada perché vi sta riuscendo davvero molto bene i personaggi che ho trovato all'interno della storia sono tutti molto simpatici accattivanti però alle volte sono presentati in modo un po' troppo frettoloso quindi dovreste laurarci un po' su i disegni sono un po' troppo altalenanti abbiamo delle vignette spettacolari contrapposte a volte con delle vignette un pochino più deboli vi ho parlato ad esempio di Menzi che secondo me è disegnata in maniera un po' troppo bambinesca vi ho parlato dei veicoli che sono troppo basici quindi anche lì secondo me dovreste trovare un equilibrio come sempre occhio alla punteggiatura anche se quelle insomma sono cose che poi andrete a rivedere con i vostri editor e infine fate attenzione agli sfondi perché dal mio punto di vista dovrebbe farsene carico uno solo altrimenti dovreste studiare la stessa tipologia di sfondi imparare tutte e tre a fare lo stesso tipo di sfondo quindi la stessa struttura la stessa scena artistica e riproporla perché se i personaggi disegnati con stili diversi possono funzionare fare anche gli sfondi in quel modo cioè in modo completamente diverso l'uno dall'altro non funziona molto bene ok ragazzi il video finisce qui vi ringrazio insomma per avermi dato la possibilità di farlo vedere al pubblico sicuramente sono informazioni che sono state d'aiuto anche per altre persone che in questo momento stanno guardando il video se anche voi state creando il vostro fumetto e volete che vi faccia da editor sappiate che lo faccio in modo totalmente gratuito l'unica cosa che chiedo è di poterla fare in chiaro quindi sotto forma di video pubblico da mostrare anche agli altri perché come vi ho detto così insomma ci guadagnano un po' tutti quanti il modo per farlo è il seguente dovete creare un flip snack esattamente come lo hanno creato i ragazzi quindi questo fumetto in formato virtuale e inviarmelo raccontandomi un po' qualcosa della vostra della vostra storia alla mail che leggete qui sotto questa è la mia mail ufficiale me lo inviate vi presentate mi chiedete insomma di potervi fare da editor mi date già il vostro flip snack e lì io farò una cernita chiaramente perché se mi renderò conto che siete ancora troppo indietro rispetto a una possibile pubblicazione vi dirò subito vi darò magari qualche consiglio tramite mail ma ci fermeremo lì se invece come in questo caso vedo del potenziale e magari mi rendo conto che ci sono giusto alcune cose da rettificare passeremo all'altro step e ne farò molto volentieri un video ok ho detto tutto grazie ancora per aver guardato questo video fino alla fine iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto mettete un bel like così darete una mano al sottoscritto a farsi conoscere un pochino di più nel web e ci vediamo prossimamente un bacio a tutti i matti del mondo muah